Grave incidente ieri pomeriggio in via delle sirene a Ponte Cagnano-Faiano. Un uomo di 60 anni è stato travolto dal suo trattore mentre lavorava nei pressi di un terreno agricolo. Il 60enne è stato soccorso dagli operatori del Vopi e trasportato presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. L'intervento d'urgenza disposto dai medici non ha però evitato l'amputazione della gamba destra. Ancora in corso d'accertamento la dinamica dell'incidente. Grazie.